Salve, mi ha toccato pure a fare la palla per l'albero di Natale, Juan, che ci stava in un buce. Comunque, cari amici, solo per portarvi a conoscenza che da sabato e domenica prossima, primo dicembre, siamo aperti tutti i sabati e le domeniche fino alla fine dell'anno, l'eccezione della macolata congezione perché io ho rispettato le feste comandate, ho fatto le cucaracce e ho frito il crespello. Dopo siamo aperti tutti i sabati e le domeniche, lo sabato pomeriggio e lo sabato mattina, e la domenica solo e lo pomeriggio perché la mattina io gli l'ho messo. Va bene, vi aspetto numerosi. Buon inizio di avendo, senza avendo speriamo.